Ecco perché non dovresti avere paura di indossare le tue sneakers. Spesso chi colleziona sneakers sceglie di non utilizzarle per evitare che si rovinino. E si sbaglia! Questo è quello che succede dopo anni che non le si indossa. La suola inizia a sgretolarsi per via dell'ossidazione. Sei ancora convinto di tenere nella scatola?